Disponibilità, sì, ma senza l'urgenza, di tempi impellenti. Questo il punto di vista di Daniele Vimini e Andrea Biancani da mesi indicati come i più papabili successori del sindaco Matteo Ricci nella tornata elettorale di giugno 2024. Il Partito Democratico infatti prende tempo fra consultazioni interne e uno sguardo attento ad una rivoluzione nazionale sulla possibilità di un terzo mandato ai sindaci. Terzo mandato che allo stato attuale è ancora confinato ai comuni fino ai 5.000 abitanti, ma inizio 2024 sembra probabile che venga varata la riforma che estenda questo terzo mandato anche a quelli con 15.000 abitanti, così come oggetto di valutazione pure un'estensione a comuni ancora più popolosi. Nel senso che il mio impegno attualmente, la mia responsabilità è quella di portare a casa, a termine, nel migliore dei modi, il lavoro di capitale italiana e cultura, il che mentalmente, ma anche in termini di tempo, essendo alla fine le elezioni il 9 giugno, non proprio l'umattina, lontane, non mi sento in campagna elettorale né direttamente candidato o coinvolto in questo processo che anche come Partito Democratico abbiamo rimandato all'anno nuovo. Quindi da qui il mio atteggiamento, che naturalmente non è solo di fair play istituzionale, ma anche di concentrarmi sul nostro lavoro. Proprio di che, come abbiamo detto, a gennaio il PD prima, la coalizione poi decideranno i propri candidati, anche se fare eventuali primarie di coalizione e chiaramente tra i nuovi che sono stati fatti c'è la mia disponibilità, come c'è le altre che sono state evocate. Quindi insomma niente di nuovo, era semplicemente un modo per riaffermare che nei tempi a volte anche della politica precipitati, a volte serve anche dare tempo al tempo e far soprattutto occuparsi intanto a livello istituzionale di quello che si sta seguendo. Nella nostra situazione abbiamo diverse persone che hanno dato la disponibilità, ovviamente tra quelle persone ci sono anche io, ma una disponibilità, come dire, se possiamo definirla serena, cioè costruttiva. La mia disponibilità viene confermata, sarà adesso il Partito Democratico, ricordo insieme agli alleati, perché poi la nostra ambizione è quella di riuscire a fare un'alleanza larga e il nome che risulterà, come dire, più appropriato verrà in qualche modo scelto. Io penso che prima di fine gennaio sarà difficile, anche perché in questo momento a livello governativo si sta parlando di concedere il terzo mandato ai comuni fino a 15.000 abitanti. Non hanno fatto questo provvedimento all'interno della legge di bilancio, questo sta a significare che stanno pensando di allargare ulteriormente. Qualcuno dice che dovrebbero allargare fino a 100.000 abitanti, ovviamente fino ad oggi questa certezza non c'è, se si dovessero allargare a 100.000 abitanti potrebbe rientrarsi anche la città di Pesero, non so se il sindaco Ricci deciderà di scegliere il terzo mandato o no, però questa è una modifica normativa che probabilmente fino a 15.000 abitanti, ripeto, vada fatta, fino a 100.000 non si sa, e quindi è bene che venga individuato correttamente chi sarà il candidato una volta che si hanno tutte le bocce ferme e saremo sicuramente nelle condizioni di poter esprimere il candidato con maggiori potenzialità e quello più adatto per una città come quella di Pesero.